Una sfida nella sfida, quella tra Marco Sansovini e il Verona, col bomber bianco-azzurro che ha vissuto gli incontri decisivi degli ultimi anni, firmando prestazioni e gol importantissimi proprio agli scaligeri. Lunedì sarà tutto esaurito l'Adriatico Giovanni Cornacchia in uno scontro diretto dal profumo di Serie A e con due compagini in grande forma. Il Pescara si presenta a tre punti dalla vetta dopo aver sbancato Nocera, una delle squadre che gioca meglio nel girone. I gialloblù sono secondi ad un solo punto dal toro con una serie positiva ed una rimonta negli ultimi due mesi di campionato impressionante. Parola al bomber Sansovini. In questo momento giocare col Verona significa giocare in uno scontro diretto. Bellissimo sarà giocarlo allo stadio Adriatico con tantissima gente che vorrà vedere la partita. Sicuramente ce la metteremo tutta per vincere come sempre proviamo a fare. Grazie a tutti.